Alcaraz ha sbarudito tutti, avvento infatti a Wembley in Inghilterra vicino a Londra, infatti è proprio lui a stendere, a mettere a tappeto da Paolo Diokovic o Diokovic, un 5-7 totale. Nel gioco decisivo parte il vantaggio proprio Diokovic con Alcaraz che però va a ribattare, a opporsi duramente e drasticamente in un risultato prima con un slice e poi con un goleggio. Diokovic quindi ora ai 30-30 in un contropiede, il spagnolo però conquista il set point con un slice e poi termine il match, dicendo, nel quinto set con un 6-4 di regolamento raggiunto. E insomma è stata una bella partita, una bella impresa, il buon Alcaraz sconfigge il re del tennis per l'incidenza tra Iokovic in 5-7, riuscendo ad ottenere il tipo Wembley 2023. Va bene? Complimenti dunque all'Alcaraz, il video termina con Carlo Alcaraz, iscrivetevi al canale Narado Italiano Comunitario. Un caro salone a tutti e al prossimo.